Musica Martedì 2 agosto, buongiorno con ETRG Mattina, la rassegna stampa. I quotidiani in edicola c'è la vicenda J&P Industries, inevitabilmente in primo piano nell'edizione dei quotidiani, con la richiesta di mobilità e ovviamente i prossimi appuntamenti già questa settimana in calendario. Allora lo vediamo subito con il Corriere dell'Umbria, ex Merloni, presto la verità, convocato per giovedì un incontro con Porcarelli dopo l'annuncio della richiesta di mobilità per 400. Lo vedremo nel dettaglio, ieri il giorno a Orvieto dei funerali di Anna Marchesini, Lopez e Solenghi, lacrime per la componente del trio che tanto successo ha avuto in passato. La figlia dell'attrice è scomparsa, ha indossato ai funerali, l'ultimo abito di scena della madre. E poi da Bettona l'autoritratto del Canova era in un fondo, considerato risperso da oltre un secolo, si trovava appunto a Bettona, abbandonato nel magazzino comunale. Da Terni, sciapro della fame contro l'elettrosmog e la protesta di un cittadino malato. La Nazione Umbria, anche qui, vogliamo un futuro. Vertenza ex Merloni, operai sul piede di guerra, tra l'altro in concomitanza con l'arrivo delle Papa di giovedì, la richiesta di poter incontrare Francesco. Intanto, proprio sulla visita del Papa, vietato camion e droni, misure di sicurezza in vista della visita di Francesco alla Porzioncola. Questa notizia la trovate anche nell'home page del portale trgmedia.it, appunto le misure straordinarie in occasione della nuova visita, seppur in forma privata, del Santo Padre. Gli altri, le altre notizie con il dorso Umbro della Nazione, da Perugia in arrivo 41, mini dirigenti e poi tutto a rvieto in lacrime per l'addio alla Marchesina. Infine, videoclip sulle sponde del Trasimeno, Brigitta Bulgari fa la cantante e gira al lago. Chiudiamo con le prime pagine con il messaggero. L'addio alla carta va a singhiozzo entro il 12 agosto. Gli enti pubblici devono passare certificati digitali, i comuni grandi sono pronti, altrimenti per ora niente sanzioni. La strana concorrenza pubblico-privato per software e servizi. Comunque, siamo al passo, questa è l'opinione. Visita di Papa Francesco, allarme per i droni, vertice in prefettura, misure rafforzate sul modello Roma. Amianto in regione, sindacati e confidustre, appunto, convocati dall'ente di Palazzo Donini. Perugia libera uno quartiere dai rifiuti, ma dopo dieci giorni torna l'inciviltà. Infine, l'angolo del metro, alta pressione, di nuovo in rimonta. E si, quanto sembra, dalle previsioni si farà di nuovo sentire. Allora, con il Corriere dell'Umbria, le pagine regionali. C'è la vicenda a Val Nestore, sempre in primo piano. Adesso bisogna allargare il perimetro dei controlli. I cittadini di Piegaro e Panicale vogliono che i carotaggi non siano concentrati solo su un piccolo territorio. Soprattutto gli iscritti al comitato soltanto la salute vogliono che i carotaggi non siano concentrati in un piccolo perimetro, ma vengono distribuiti nelle aree critiche, dove cioè sono noti i dati di inquinamento delle falde. Intanto, una notizia di economia di occupazione, trafome che passa ai cinesi, l'azienda di Panicale. E il fatto richiamato in prima pagina, ritrovato un canova nascosto in un fondo del comune di Bettona, il busto, un gesso marmorizzato firmato e datato 1812, veniva considerato ormai disperso. E' un autoritratto. Il ritrovamento dell'opera in gesso marmorizzato e completo di base, tra i migliori esemplari rimasti, ha destato molto stupore nel comprensorio bettonese e in quello che è uno dei borghi più belli d'Italia, ma al tempo stesso grandissima soddisfazione fra coloro che una volta ritrovato hanno adesso appreso il reale valore del gesso. I critici d'arte non hanno dubbi, si tratta di una grande opera e di valore assoluto. Amianto, questione aperta, audizione in regione, il problema non riguarda solo le fabbriche, ma anche strutture private e scuole. Dunque l'allerta massima in questo senso, con la Nazione, ancora con il dorso umbro, c'è spazio al vertice, in prefettura per il Papa, stoppa i camioni al volo dei droni, isola pedonale attorno alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, queste ed altre ovviamente le misure adottate. Segnaliamo anche la questione Gesenu con l'antimafia, le carte sul tavolo del prefetto, la richiesta di revoca presentata dal Presidente Marconi. con il messaggero, il servizio di prima pagina sulla digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni, lo svolgimento appunto del servizio uffici pubblici a Dio Carta, avanti i comuni più grandi, la scarenza è fissata per il 12 agosto. Come detto, Stefano Bigaroni di Umbria Digitale, ottimista, lavoriamo sodo la nostra regione. E' al passo, sempre con il messaggero, la cronaca da Perugia, ma che riguarda un po' tutte, la questione di sicurezza nelle città Umbre, furti nelle auto, la mappa del rischio, pian di Massiano e zona via Ripa di Meana, denunciati ride all'interno delle vetture, ma anche danneggiamenti, questione di sicurezza in primo piano, in vista della visita di Papa Francesco giovedì a Santa Maria degli Angeli, controlli rafforzati e allerta droni e stop alla circolazione dei mezzi pesanti e pattuglie aumentate. Questi sono alcuni dei provvedimenti che sono stati adottati. Allora, con il Corriere dell'Umbria, andiamo a parlare di territori, di comprensori con Perugia, cittadini di Ponte San Giovanni alla carica per il tratto di Pieve di Campo, o la nostra via ancora dimenticata. Da segnalare invece l'intervento di ripulitura dalle erbacce per la stazione della frazione. Poi, sequestrate 20 tonnellate di rifiuti, denunciato titolare di un impianto di recupero di materiale ferroso, per il NOE trattava anche tipologie per cui non era autorizzato. Prevista un'altra ondata di calore, lo dicevamo, numeri utili e regole da osservare, l'esposizione diretta al sole è da evitare. Con la cronaca, fotografa il topo d'auto e la polferloro in traccia, fonti veggie, stavolta irresponsabile, è stato preso. Comune di Perugia, vita istituzionale, tagliato una decina di mini dirigenti, saranno 34, 7 le alte professionalità. La giunta delibera lo schema e prosegue la riorganizzazione comunale, in dirittura d'arrivo il contratto integrativo decentrato. Ancora, a proposito del traffico di opere d'arte, che vergogna il marcimone dell'arte, Giorgio Bonomi rompe il silenzio e lancia accuse sulla gestione della cultura in città e nella regione. Andiamo ad Assisi. Porta aperta al perdono e alla grazia, la porzion con la cuore della misericordia, grande festa oggi per pellegrini e fedeli, sotto legge del poverello, alle 11 solenne, con celebrazioni, giorni intensi anche questi, che precedono l'arrivo di Papa Francesco. La sanità, nessuno vuole chiudere l'ospedale di Assisi, l'assessore regionale Barberini, in visita nella struttura. Queste le sue rassicurazioni. E poi, i lavori pubblici non vanno in vacanza, la città è tutta un cantiere, con tanti interventi nelle scuole, ma anche di manutenzione del verde. Segnaliamo da Passignano il palio delle barche che conquista i visitatori, l'epilogo nel fine settimana appena alle spalle. Da Todi, arte e comicità in piazza conquistano. Il sabato mostra nella Sala delle Pietre e Maurizio Battista sotto le stelle. Andiamo in Alto Tevere. Si parla di mostra nazionale del cavallo, che ha svelato alcuni particolari della cinquantesima edizione in programma, come sempre, a settembre. Ebbene, concorso europeo. Ecco l'evento clou. L'associazione mostra nazionale del cavallo annuncia importanti novità per l'edizione numero 50 dal 9 all'11 settembre. C'è il concorso europeo che sarà l'evento clou, ma si guarda anche al turismo rurale. Elezioni di giugno scorso. Presentato un esposto alla procura sulle amministrative. L'atto è stato depositato venerdì dal candidato sindaco di Castello Cambia, Roberto Colombo, chiedendo chiarezza sui fatti accaduti. Appunto, il 4 e 5 giugno. La cronaca furti dentro le auto nella zona del Sasso. Derubati tifernati che erano andati a bagnarsi sul torrente nei vasconi il pomeriggio di domenica. Poi la sicurezza nelle scuole, la visita ai cantieri dei plessi di Cerbara e di Latina da parte degli assessori Cestini. Secondi, spazi tematici a spettacoli per le fiere di settembre. Siamo ad Umbertidi e poi Expo Eccellenza Fatto Centro. Primo passo per il rilancio del nucleo storico. È nata la rivoluzione frattegiana. A Gubbio la bomba d'acqua che ha paralizzato la città nel pomeriggio di ieri, allagamenti lungo le strade, persino nelle case provocate dal gran quantitativo di pioggia è già caduta in pochi minuti. Davvero tanti gli interventi di Vigili del Fuoco che hanno ricevuto decine di chiamate per normalizzare la situazione e soccorrere le persone in difficoltà. Sempre le solite, purtroppo le aree maggiormente interessate dai disagi e dall'emergenza in questo tipo di situazione. Sopralloghi in via Cairoli per tenere d'occhio le condizioni del palazzo dopo che si era staccato un pezzo di cornicione finito in strada, come abbiamo documentato nel nostro portale. Poi strade partono i lavori e si sentono i disagi mentre cresce la protesta per la sicurezza di via Ubaldi dove la carreggiata si restringe in alcuni tratti. Proprio Beniamino Ubaldi è una delle vie interessate a questo nuovo intervento. Centauro travolto da un cinghiale sempre in prognosi riservata mentre si scaldano i motori per il Gubbio Dogfest si avvicina all'iniziativa in memoria di Riccardo Monacelli l'appuntamento è da venerdì a domenica prossima. Poi andiamo a Gualdo a Rigali torna alla Corsa della Botte con i suoi secoli di tradizione è sempre più ricco e gustoso il programma della Sagra della Caramella Tartufata. Sigillo, notte bianca dello sport parolimpico è stata presentata alla Camera dei Deputati mentre, tornando a Gualdo, Madonna di Fatima sono stati moltissimi fideli che hanno reso omaggio a San Benedetto e poi oggi è il giorno dei cortei storici siamo a Nocera Umbra si entra nel vivo del palio dei quartieri che verrà segnato domenica mentre è sempre da Nocera minoranza lascia l'aula in occasione della discussione del bilancio Foligno, la nuova 77 rafforza il ruolo dell'ospedale sanità e riorganizzazione Mismetti nomina gruppo tecnico polo unico con due sedi frecciate la schiarea del movimento per Foligno intanto tornano a colpire i topi d'appartamento a Cave Maceratola è ancora una sessantina di sia la donazione degli organi l'assessore stancati traccia un primo bilancio del progetto le donne superano di gran lunga gli uomini per le adesioni da Valtopina da registrare il ritiro delle dimissioni del sindaco Cosimetti ma la polemica è ancora aperta la minoranza va alla carica a Montefalco gusto e cultura la gusto montefalchese una magica atmosfera tutta da vivere quest'anno il programma della manifestazione si arricchisce del Sagrantino sotto le stelle alla fuga del Bove sempre da Montefalco bagni pubblici 9 di Zecca in centro il vice sindaco Titta dice servizio importante il titolo principale di Spoleto Conti il rosso il futuro dell'asse è pieno di incognite il consiglio comunale tiene banco il passivo della partecipata il sindaco Cardarelli dice alcune unità dirottate all'ufficio tributi intanto passa tra le polemiche l'assestamento di bilancio chiudiamo con il titolo principale di Terni via libera la raccolta differenziata il consiglio approva il nuovo regolamento sul rimpasto di giunta ancora un rinvio ma il sindaco incontra armi in lei andiamo alla nazione per i servizi relativi al dorso dorso regionale allora partiamo da Perugia tornano i mini dirigenti comunali la giunta individua 41 figure da due anni non c'erano più in calo rispetto all'esecutivo Boccali a due anni esatti da quelle infocate assemblee in cui il personale del comune votò praticamente all'unanimità l'abolizione dei mini dirigenti la giunta decide che è il momento di rimettere mano alla partita ricostruisce con tanto di delibera il nuovo effettivo fa bisogno di queste figure tirata d'orecchio ai funzionari l'assessore dice la politica scelga Calabrese sceglie Facebook per una chiara esternazione il concetto il primato della politica affonda le sue radici nella sovranità popolare ed è stata nei giorni scorsi al centro delle polemiche i fondi destinati dalla giunta alla manifestazione Perugia 1416 ebbene altri 30 mila euro l'esecutivo anticipa ulteriori risorse all'associazione Conti chiude i battenti in centro addio a un pezzo di storia cittadina anche la storica merceria di Piazza Matteotti deve arrendersi e ancora con la questione palevangelisti che sta sicuramente riscaldando l'estate di Perugia dal punto di vista sportivo ma anche politico amministrativo allora il palevangelisti ora è un caso comune nel mirino Sir ci tuona il presidente Sir torna a sbottare attacco di PD e Grillini la polemica c'è il concerto di Emma il 26 settembre salta così la Final Four di Supercoppa che sembrava destinata proprio a Perugia ma impossibilità di coesistenza con questo evento il presidente della Pallavolo è tornato appunto a minacciare di lasciare Perugia la Trafomec che passa ai cinesi lo abbiamo lo abbiamo visto la Sisi l'ospedale non sarà chiuso così Barberini salva la struttura l'assessore parla del futuro e incontra il personale a Bastia boom di raccolta differenziata e continua la caccia ai furbi fratellini dice i primi posti in classifica tra i comuni con oltre 15.000 abitanti nella pagina dell'Alto Chiascio ovviamente la questione ex Merloni JMP in particolare in primo piano gli operai in mobilità dicono chiediamo aiuto al pontefice sono appunto gli operai in mobilità dalla procedura ex Merloni intanto sulla vicenda JMP domani regioni al ministero giovedì incontro con la proprietà insomma giorni caldi e poi contatti con il vescovo Sorrentino per consegnare una lettera al Santo Padre in occasione della visita di Papa Francesco l'idea è chiedere aiuto al pontefice così come era avvenuto già tre anni fa quando i cassi integrati dell'ex gruppo del Bianco gli consegnarono una lettera a Gubbio pioggia l'estate la città va in tilt di saggia al traffico e al lagamento e ancora in moto si scontrò con un cinghiale l'uomo resta in prognosi riservata dimesso il turista appunto da una vespa a Gualdo arte follia sgarbi presente il catalogo con successo la mostra di Ligabù il critico d'arte sarà a San Francesco Alto Tevere addio rischio sismico a scuola un piano da 3 milioni di euro lavori e nuovo look per gli istituti di Latina e Cerbara e ancora i musulmani rinnovano l'appello domenica tutti in Chiesa da Umberti Rex Po centro storico vetrina d'eccezione tornando a Città di Castello con la mostra del cavallo che fa 50 punta sul turismo rurale spettacoli alta gastronomia per la serata di gala l'evento con il campionato europeo seniores di monta da lavoro tradizionale attira centinaia di appassionati da Foligno meglio da Trevi la cronaca trovato in casa morto da giorni indagini per chiarire il mistero un cadavere di un 51enne porta di casa chiusa da dentro intanto si dimette proietti sono deluso mi aspettavo solidarietà il consigliere dei 5 Stelle lascia l'incarico per motivi familiari e polemizze poi integrazione degli ospedali collaborazione con Spoleto parole del sindaco mi smette a proposito di Spoleto il bilancio servono nuovi tagli sì del consiglio all'assestamento a Montefalco su il sipario è tempo di festa al via gli eventi dell'agosto Montefalchese Terni Miranda protesta contro le antenne basta morire ora si intervenga la battaglia dell'ingegnere Ternano anche lo sciopero della fame messaggero il dorso regionale partiamo da Perugia San Marco parco ripulito torna subito l'inciviltà dopo neppure 10 giorni nel punto di raccolta tornano puntuali i rifiuti i residenti hanno chiesto più controlli contro chi abbandona abusivamente poi c'è la vicenda mini dirigenti la giunta prepara un piano per 41 e ancora dalla provincia di Perugia JEP al posto del rilancio arriva la crisi i deputati Umbri si mobilitano con interrogazioni e iniziative serve l'intervento del governo per salvaguardare l'occupazione si tiende dei dipendenti contro le decisioni della proprietà la fiombe dice i segnali positivi c'erano tutti decisione inspiegabile queste dunque le prese di posizione all'indomani dell'annuncio shock e in vista ovviamente dei appuntamenti di cui si parlava gli snodi cruciali possibili snodi cruciali di questa settimana il sindacalista Luciano Orecchioni dice faremo di tutto per far ritirare questa decisione inverosimile Umberto il dipendente si toglie la vita al cimitero segnaliamo da Gubbio sotto la pioggia 50 interventi dei vigili appunto per l'eccezionale ondata di maltempo del pomeriggio di ieri ma segnaliamo anche il cantiere le polemiche è quello di via Beniamino Baldi perché in concomitanza con quello già attivo da tempo di via Perugina lunghe code clacson talvolta l'impazzata per esternare sonoramente disagi e polemiche per appunto la concomitanza di questi due interventi da Foligno in 60 al fianco del Papa esperienza indimenticabile anche le famiglie polacche in difficoltà hanno fatto uno sforzo per l'accoglienza durante l'incontro Foligno ha lanciato il gemellaggio con Schiarnivize sono i reduci della presenza della visita del viaggio in Polonia per la giornata mondiale della gioventù ci occuperemo di questo anche dei nostri appuntamenti informativi e poi Montefalco danza musica e spettacolo con l'agosto Montefalchese giovedì al museo San Francesco la mostra di Natino Chirico poi Mismetti che dice l'integrazione tra ospedali va avanti da Spoleto bilancio in perdita futuro incerto per 41 lavoratori segnaliamo da Terni i rifiuti porta a porta al vias pronta al giro di vite torniamo al Corriere dell'Umbria per le pagine di economia e poi ovviamente con la cultura e gli spettacoli per chiudere questa prima parte di rassegna economia giovedì faccia a faccia con Porcarelli per l'ex Merloni RSU sul piede di guerra nessun presagio decisione inaccettabile si pensava a una ripresa visto che nell'ultimo mese la produzione è aumentata si erano infatti passati da 150 a 300 unità giornaliere riportando in fabbrica una media di 180 lavoratori invece quello che i lavoratori aspettano ora è l'incontro chiesto subito dai sindacati e dall'azienda prevista Fabriano in settimana appunto nella giornata di giovedì e poi tanti interventi del livello istituzionale e la richiesta del consigliere regionale Smacchi di convocare un'apposita seduta della seconda commissione parliamo delle vertenze aperte l'esortazione da Magione per il rilancio del mercato 1 e 1 si inizia dallo svincolo stanziati 250 mila euro per l'opera dicevamo degli spettacoli visita guidata di Sgarbi alla mostra Arte e Follia l'appuntamento per giovedì per venerdì scusate alle 18 alla chiesa di San Francesco a Gualdo Stadino il critico d'arte arriva al volante di un'auto appositamente brandizzata ricordiamo Sgarbi poi l'inserata sarà a Gubbio per il Docfest San Giustino con esperimento il jazz entra in villa il Duocantini Bartoli per cominciare poi Natino Chirico come abbiamo detto a Montefalco con gli spettacoli andiamo direttamente alla pagina di giorno e notte del messaggero il cinema risorge sotto le stelle dai giardini del frontone a Perugia l'arena di Marsciano i giardini di Giano fino all'anfiteatro di Montegrillo tanti film al fresco anche Castiglione del Lago Puglietta nel Chiostro del Centro intanto il Vecchio il Lago la lotta con il Persico più grande di sempre da Colfiorito la Sagra punta al mare grazie appunto all'apertura della strada che collega in poco tempo la montagna affolignate con il mare Adriatico allora noi con questo ci fermiamo come sempre per un breve stacco pubblicitario tra poco di nuovo insieme con le pagine di Sport di Bologna